Nel 1981, all'età di 27 anni, ho avuto un grande sogno. Nel futuro l'energia solare fotovoltaica sarebbe diventata l'energia più resiliente, economica e ambientalmente sostenibile. Sapevo però che produrre celle e pannelli fotovoltaici sarebbe stato tremendamente difficile perché il mercato ancora non esisteva e loro costavano troppo. Prese la decisione e chiesi a mio padre in prestito una cospicua somma di denaro per permettermi di acquistare una tecnologia americana per poter costruire le celle e i pannelli fotovoltaici che erano derivate dalle applicazioni sui satelliti artificiali. Mio padre mi diede fiducia, andai in America e tornai con la tecnologia necessaria. Iniziai la produzione, ma poco dopo capii che competere con i grossi colossi petroliferi americani che erano i miei concorrenti dell'epoca, era quasi impossibile. Loro producevano e vendevano sotto costo. Allora studiai il mercato e capii il loro punto debole. Loro producevano solo il pannello, la cella e il pannello fotovoltaico. È un po' come il motore di un'automobile. Mentre invece il mercato europeo, ancora giovanissimo, aveva bisogno di... Non sapeva ancora come costruire l'impianto completo, cioè l'automobile. Aveva bisogno dell'automobile, non del motore solamente. Allora decisi di inventare e progettare gli altri componenti per costruire l'impianto completo, cioè l'automobile. E a quel punto però il mercato europeo era ancora troppo piccolo. E allora decisi di andare a vendere questi impianti completi in Africa, in diversi paesi africani dove c'era grande bisogno di energia e di acqua. E ebbe successo. E credo che la chiave di quel successo fu l'inclusività, più che non la qualità degli impianti che vendevo. Ma che cos'è l'inclusività? Le due storie che ora vi racconterò vi faranno capire come l'inclusività possa essere la chiave per realizzare sogni. E nel mio caso, impianti fotovoltaici. Nel 1983 un missionario comboniano mi contattò per capire se fossi riuscito a costruire un impianto fotovoltaico capace di pompare l'acqua a tutti i villaggi della zona situati sulle colline. Sarebbe stato l'impianto più alto mai costruito fino a quel momento. e a quel punto dovevo prendere la decisione. Lui mi disse che aveva trovato i fondi per finanziarlo ma che avrebbe potuto pagarmi solo a impianto completato e funzionante. Sapevo che questo impianto era per me una grande sfida e se non fossi riuscito a completarlo quell'impianto avrebbe portato la mia piccola azienda alla rovina. E con me, con quello, anche il mio sogno. Allora decisi in sostanza di... veramente fui molto combattuto nel prendere la decisione però decisi di andare avanti. Quindi costruì l'impianto e lo mandai in Burundi. Lì padre Mario mi suggerì di parlare con il capo tribù e la popolazione chiedere il loro permesso per realizzare quell'impianto lì nel loro territorio. Anche perché sapevo che per costruire quell'impianto avevo bisogno del loro aiuto. Non potevo portarmi da casa tutto il personale per installarlo. Sarebbe stato troppo costoso. E in più loro e i contadini avrebbero dovuto abbandonare i loro lavori nei campi per venire ad aiutare noi. padre Mario mi presentò al capo tribù dei Tuzzi quelli che chiamiamo i Vatuzzi. Un anziano altissimo magro e con un atteggiamento con la barba bianca e con un atteggiamento austero e autorevole. Lui rimase in silenzio tutto il tempo a sentire la mia storia il mio progetto e anche la mia richiesta. io però percepivo in lui tutta la diffidenza e la incredulità verso questo progetto che per lui aveva il sapore dell'impossibile ma come energia solare che produce energia elettrica che alimenta la pompa per portare l'acqua fin lassù. Impossibile. Mi congedò con faccia scura e scettica dandomi appuntamento per il giorno dopo per la sua risposta. Mi ritirai nella mia stanza e quella notte piansi perché capii che avevo messo la mia azienda a repentaglio e con essa anche il mio sogno. decisi quindi di andare avanti e fu così che dopo due mesi l'impianto entrò in funzione perfettamente e iniziò a produrre acqua e a darla a tutta la popolazione 5.000 persone grate soprattutto le donne. Questa esperienza mi ha insegnato che per creare inclusività occorre chiedere il permesso a chi è lì dell'uovo. Ora la seconda storia che vi racconto pure parla di inclusività. Nel 2020 ci chiamarono da Capoverde un archipelago in West Africa un archipelago dove l'imperante siccità aveva era ormai un'imperante siccità che in sostanza la popolazione non aveva più acqua dolce per irrigare i campi e per il loro uso domestico. Lì il presidente dell'associazione degli agricoltori mi raccontò come l'acqua del posto divenuta salata aveva ridotto la produttività delle colture dell'80%. Il futuro dei contadini e dei loro figli stava morrendo. Io e mio figlio capimmo che il nostro impianto solare fotovoltaico di dessalinizzazione dell'acqua era la soluzione. Era il primo impianto di quel genere innovativo controllato dal microprocessore e con tanti sensori capace di essere molto performante e di essere sostenibile negli anni a venire. Fu così che installamo l'impianto questa volta avevamo il nostro team per installarlo. comunque io e mio figlio decidemmo di coinvolgere al massimo la popolazione locale pescatori e contadini 350 persone circa ma soprattutto decidemmo di fare formazione ai ragazzi del luogo per motivarli e renderli capaci di manutentare questo impianto e di risolvere eventuali problemi che fossero sorti nel futuro nei prossimi 30 anni. un giorno vidi uno di questi ragazzi che stavamo formando Nelson un ragazzo alto e con un atteggiamento sempre positivo e lo vidi lavorare al computer dell'impianto e in tutta autonomia risolvere un problema compresso che si era generato in quei giorni. Lì capii che l'obiettivo era stato raggiunto che la formazione tecnica era stata la chiave per includerlo. Oggi la mia azienda sta vendendo questi impianti fotovoltaici e li sta diffondendo in vari paesi africani laddove Nelson e i suoi numerosi colleghi saranno gli istruttori di altri tecnici africani. Ho in mente di formare di creare una società una scuola per tecnici africani specializzati nelle tecnologie del fotovoltaico e nelle sue applicazioni. Credo che inclusività sia fare formazione. La formazione l'inclusività secondo me è fare formazione e chiedere il permesso a chi è del luogo. Ora le due storie che vi ho raccontato quella del Burundi prima dove io avevo bisogno dell'altro e la seconda è a Capoverde dove volevo il futuro dei miei progetti dei miei impianti e di quei ragazzi. Queste due storie vi indicano come l'inclusività è l'elemento essenziale per il futuro dei nostri sogni. ora faccio una domanda a tutti voi ma può essere che l'inclusività nella vita vostra di tutti i giorni nei vostri progetti possa essere la chiave dei vostri sogni? Pensateci stasera prima di andare a letto magari avete la risposta la risposta ai vostri sogni. Grazie.